Matteo Ruggeri, quanto dispiacere c'è? Volevate un altro risultato e uscite dallo stadio di Via del Mare senza neppure un punto? Sicuramente, come ho detto, dispiace molto per il risultato perché abbiamo fatto anche cose buone, soprattutto nel secondo tempo, ma magari non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Potevamo, secondo me, magari fare qualcosina in più nel primo tempo, però, come ho detto, anche Lecce ha interpretato molto bene la partita e ha fatto due gol. Però ripartiremo sicuramente da domani per pensare a domenica, che è molto importante. Cos'è mancato, secondo te, questa cattiveria agonistica? Loro forse più voglia di conquistare la vittoria? Ma, secondo me, è mancato qualcosina negli ultimi metri, magari in qualche conclusione, però sicuramente anche magari a primo impatto, nel primo tempo, a livello difensivo, magari abbiamo peccato in qualche caratteristica. Però, secondo me, la nostra partita l'abbiamo fatta e, come ho detto, dispiace avere il risultato. Adesso, come hai detto già anche tu, testa al prossimo impegno, l'ultimo di questo 2022 per quel che riguarda la Serie A e al Gavi Stadium c'è un altro big match. Arriverà l'Inter? Sicuramente, come ho detto, è una battaglia che dovremo portare fino al novantesimo e sperare di chiudere in bellezza questa prima parte di campionato, prima della sosta, per comunque tenerci in una zona molto buona della classifica. Sicuramente, come ho detto, dovremo ripartire da domani e cancellare subito questa partita perché nel giro di quattro giorni ci aspetta questo big match. Sicuramente, come ho detto, dovremo ripartire da domani e cancellare subito questa partita.